Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo sulla nostra serie Cop con Otto Karius. Salute. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, allora siamo qui pronti nel 1942. Le sorti di questa guerra sono più o meno a nostro favore. Adesso ci stiamo difendendo in Turchia, in cui tu, Otto, stavi provando ad aiutarmi a sconfiggere tutti questi inglesi, canadesi, indiani, vabbè, un po' di persone. Con la diluzione di Ronald. E poi stiamo attaccando un po' in Africa, così diamo una mano ai nostri anghiati italiani. Stai perdendo anche la Sicilia, l'Italia. Però, tutto sommato, sta andando bene. Ora più che altro dobbiamo provare a difenderci. Attenzione, ci attaccano qua. Oddio, no, 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 stiamo perdendo Izmir. Cazzo, cazzo, cazzo. No, bueno. Ah, bene. Quindi abbiamo anche una Finlandia con i conti di noi. Però, siccome la Russia sta attaccando una Finlandia, anche la Russia sta attaccando agli angliati, capito? Esatto, quindi se noi invitiamo una Russia... Cioè, possiamo fare... Io ce l'ho già un aggression part. Ah, bene. Quindi, boh, non so. Io direi di farmi entrare. Eh, ma non possiamo perché sta nel comment, proprio. Ah, già. Facciamo diventare fascista, scusa. Eh, ma già abbiamo l'America, troppo facile. Ah, boh, ma l'America... Io la Russia la voglio. Ah, proprio. Io voglio proprio tutto. Ah, boh, poi ragionbro. Ah, certo. Mi dice che la guerra sta andando nel 50% al nostro favore. Come il 50%? C'era qualcuno che non combatteva. Ah, pezzi di merda. Volevano. Comevate non partecipare, eh? Oddio, adesso possono buttare... I 5 panciatori alla popolazione tra 215 giorni. Minchia. Ottimo. Vogliamo attaccare una rabbia saudita? Eh, mosto... Ok, sì, c'ho 10 divisioni io. Io ne ho 5. Tanto, me ne frega niente. Io ne attacco giusto per il petrone. Vabbè, sì, attacchiamo. Io prendo il lato sinistro, tu lo mettiti sul lato destro. Attacchiamo una rabbia esaurita. Attacchiamo. Mettiamo un nuovo generale, così, a caso. Che si chiama... Timistognis. Eh, vabbè, vengo. Andiamo avanti. Perfetto. Cioè, guarda come resistono... Sti arabi. Che sono proprio degli arabi. Ah. Proprio... Non voglio che non... Guarda, guarda. No, non ci credo. No, vabbè. C'è uno di petrolio nella chiama. Cosa? Lo vuoi tu? L'uno di petrolio. Ah no, è tuo direttamente. Oh. In Nicaragua? Stamigliando le relazioni con il Tibet. Ah. In Nicaragua. Ok, no. Perché... Cioè, pensavo... Il Nicaragua. Ti immagini che fanno un'ammeanza? Nicaragua e Tibet. È bellissimo. Ottimo proprio. L'alleanza migliore del mondo. Più utile del mondo. È che più forte del mondo. Oddio, questo generale si chiama Gennaios Manos. No, vabbè. No, vabbè. Cioè, il nome più bello del mondo, no? Gennaios. È bellissimo. Gennaios Manos. Vabbè. Cioè, qua spicchiamo proprio... I più bei nomi del mondo. Ah, ma abbiamo preso Rudy. Oddio. Cazzo, manco me l'hai accolto. Dopo anni. Wow, 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 Russia. Che? Che? No. Ha cancellato con il trattato di non aggressione. No, cazzo. Merda. Ah, meglio che sto bustando. Ah, ma io ho bustato prima il coso per il Tibet. Non sto facendo diventare fascista. Come vuoi che ci dà una mano, tipo? Con le sue due divisioni. Fai, brazzo. Ma che cosa? Ok, abbiamo conquistato tutto. Tutta la Turchia, tutto coso. Queste 23 divisioni ne mando. Il problema è che se la Russia... Se la Russia... Attacca. Sono cazzo. Metti qualche divisione sulla Turchia, sulla dove stanno le mie. Sì, sì, già ce l'avevo pensato. Cioè, il mio obiettivo è di arrivare in Crimea. Potete far capire? La mia pazzia. Faccio gli alpini e mi vengo tre. Ok, 15 sottomarini, ma più che bene. Facciamo il patro... Ecco, già inizia un attacco. Già ci stanno attaccando. Manco ho iniziato. Spera, dove? No, no, dico... Battaglia Navame. Ci m'ha giocato a Battaglia Navame? Sì, sì. È troppo bello. So che... M'ho perso. Oddio, gli americani... Eh, gli americani... Gli italiani fanno un D-Day contro... Contro Creta, ma... Ci sono giusto un po' di divisioni a Creta, però. Poche poche? Poche. Giusto tutto un esercito alleato. Cazzo, non ho conto la Russia. È grave il fatto, ancora. Nei miei dieci divisioni di gennaio s'attaccano incredibili. Attenzione. Madonna. Se ne perdo tutte quale mi incazzo. Oddio, abbiamo vinto. Abbiamo distrutto... Che cos'è? In Hat Cruiser... Ah, bene, bene. Oddio, ancora altre battaglie. È... Una marina inglese, più quella turca, più quella frangese. È una fine. È una fine, proprio. Vabbè, intanto difendiamo una Turchia e una Grecia. Difendiamo anche qua in Arabia. Un... E abbiamo messo le divisioni. Qua vicino al confine con l'Unione Sovietica. Molto bene, ragazzi. Ora direi che possiamo salvare. Salviamo. Credo che nel prossimo video la Russia cadrà. Va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Grazie per aver visto questo video. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace. Commentate per darci un bel po' di consigli su come gestire questa nostra guerra. Anche perché noi vogliamo far pace, però dobbiamo raggiungere il 50%. Va bene, ragazzi. Grazie per aver visto questo video. Salute. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti.